Il pontin del diavolo è un ponticino in legno che si trova nel sentiero che collega castelletti di fiume d'isola e vetriceta. Prende questo nome perché è legato alla storia del signor Benucci, un forte bevitore oltre che bestemmiatore. Si dice che questo signore passasse spesso da questo ponticino per fare delle scorciatoie dopo aver bevuto molto. Si dice anche che in questo luogo lui abbia incontrato il diavolo e che per la forte paura presa abbia smesso definitivamente di bere e bestemmiare, divenendo un uomo migliore.